Due mesi sono stati sufficienti a Miguel Osuna, artista messicano di nascita ma californano d'adozione, per elaborare una sua personale visione in quanto artiste architetto della città di Napoli. Si intitola Continuum, la personale inaugurata a Villa di Donato, promossa dall'istituzione culturale Art 1307, che gode del patrocino del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli. Sono molto legato all'opera che rappresenta, in pratica, ed è dedicata all'eruzione del 79 d.C., ed è forse l'opera più forte, perché mi ha colpito in Napoli questa continuità storica delle persone che hanno vissuto in questa città per lungo tempo, però c'è da dire che in questa città è accaduto un evento che ha interrotto questa continuità. Oltre 30 opere per rendere alla città ciò che la città, in termini di suggestioni, ispirazioni e stimoli, ha lui dato. Un bagaglio di esperienze che Osuna ha trasposto nella propria cifra artistica, dal segno grafico alla creazione di paesaggi appartenenti a una realtà parallela, in cui orizzonti, linee di fuga e prospettive sono rispettate nell'ambito di una personalissima visione del reale. Continum rappresenta la continuità di un gesto che condensa la continuità della storia di Napoli dalle sue origini greche ai nostri giorni, così ha spiegato Cinzia Penna, curatrice della mostra. Questa è la stanza dedicata alla frattura della continuità storica della città, accaduta nel 79 d.C. con l'esplosione del Vesuvio, per cui è dedicata all'evento drammatico. Infatti la tecnica pittorica in quest'opera, soprattutto e nell'altra, non sono più una calligrafia continuativa, ma è una calligrafia tutta fratta.